Buongiorno, l'informazione di oggi giovedì 2 ottobre 2014. Apriamo con la cronaca. Non si hanno ancora notizie dell'avvocato melitese Bruno Nipote recatosi alla ricerca di funghi nella giornata di martedì scorso. A Peripoli, tra San Lorenzo e Rocaforte del Greco, è stata intanto trovata la sua autovettura, una Fiat Panda Bianca. Continuano senza sosta le ricerche che oltre ad alcuni volontari vedono impegnati il corpo fuoriattestare dello Stato, la polizia di Stato, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno perlustrando e pattugliando l'intera montagna alla ricerca della professionista melitese. Giornata di grandissima protesta ieri per i lavoratori precari e per cettori di ammortizzatori sociali in deroga in Calabria. La mobilitazione è stata indetta unitariamente da CGL Cislewil, presidi e blocchi stradali a Catanzaro davanti all'assessorato regionale del lavoro, a Reggio con blocco della circolazione lungo corso Vittorio Emanuele III e lungomare Falcomatà e a Cosenza allo svincolo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. I lavoratori chiedono il mantenimento degli impegni assunti da parte del Governo ed il pagamento dei sussidi arretrati. I movimenti Melito Futura e area grecanica in movimento a distanza di poco più di 18 mesi dallo scioglimento del Consiglio comunale melitese ed in ragione dei notevoli problemi rappresentati nella relazione ministeriale del 29 giugno 2014 di proroga dell'incarico della gestione commissariale per altri sei mesi sollecitano la triade commissariale a organizzare entro breve termine un incontro con la cittadinanza melitese. E' questa la richiesta che i due movimenti politici di merito di Porto Salvo rivolgono ai commissari, aggiungendo che tale appuntamento dovrebbe costruire l'occasione per fare il punto sugli atti assunti. Con riferimento ad alcune precise problematiche, quali ad esempio la situazione economica finanziaria dell'ente, l'attività urbanistica e la gestione della raccolta dei rifiuti, aspetto quest'ultimo, secondo quanto riportato nella citata relazione del ministro dell'interno, di particolare attenzione. L'incontro assume inoltre importanza fondamentale nel percorso diretto a ripristinare col rapporto di fiducia tra collettività melitese ed istituzioni. Si è costituita a fine luglio scorso, ma solo da pochi giorni, è finalmente attiva l'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106. L'associazione non ha scopo di lucro e confida sulle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti volontari e di quanti liberamente e gratuitamente perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione si prefigge di promuovere ogni attività a tutela dei diritti del cittadino, senza distinzione politica, contro ogni sopruso, di fermare la strage stradale sulla strada statale 106 Ionica calabrese e dare conforto ai familiari delle vittime, delle stesse vittime se sopravvissute, indipendentemente se aderenti o meno all'associazione, di promuovere l'individuazione, l'elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari dell'incidentalità stradale e delle sue conseguenze, così come delle soluzioni sperimentate o possibili riguardanti la strada statale 106 Ionica. Di sensibilizzare inoltre, attraverso l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa o attività culturale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli del diritto della mobilità. è richiesta ovviamente solo l'accettazione dello statuto dell'associazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica bastavittime106-gmail.com Il Consiglio Comunale di Bova, presieduto dal sindaco Santo Casile, coadiuvato dal segretario comunale dottor Rocco Artuso, presenti tutti i consiglieri assente il consigliere Marino, ha approvato con i soli voti della maggioranza, contraria la minoranza, la relazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2014. Gli equilibri di bilancio, afferma il sindaco, sono un obbligo dell'ente da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, con i quali si provvede a riscontrare due verifiche, lo stato di attuazione della relazione previsionale e programmatica e inoltre a riscontrare gli equilibri finanziari allo stato attuale e in prospettiva al 31 dicembre di ogni anno. Il nostro comune, afferma il sindaco Casile, sta mantenendo questi equilibri, gestendo bene la spesa rispetto alle effettive entrate e dichiarando già da oggi quanto accertato e sottoscritto dal responsabile dell'ufficio ragioneria Domenico Iriti, un avanzo di amministrazione di Euro 9.875 al 31 dicembre 2013 e quindi nessun debito fuori bilancio. Ancora una volta la gestione del nostro bilancio, conclude il sindaco Casile, manifesta una particolare attenzione come richiede la finanza pubblica e il buonsenso, mantenendo in ordine i conti del comune. Come risollevare le sorti dello sport a Reggio Calabria? Come uscire dalle attaviche problematiche che attanagliano gran parte degli impianti cittadini? Quali le iniziative immediate da adottare per rilanciare lo svolgimento dell'attività agonistica e restituire palestre, palazzetti e strutture varie alle società dilettantistiche? A queste e ad altre domande risponderanno i nove competitors alla poltrona di Palazzo San Giorgio, sabato 11 ottobre con inizio alle ore 9, quando su iniziativa della VIS si ritroveranno faccia a faccia al pala a botteghelle in una sorta di question time sulla crisi di tutto il settore sportivo reggino. Una crisi che, specie dal punto di vista degli impianti, rischia seriamente di mettere in ginocchio tutto lo sport cittadino. Non è un caso che ad organizzare la tavola rotonda sia la VIS, società di pallacanestro, che da poco più di un anno ha voluto in gestione lo storico impianto di largo botteghelle, ristrutturandolo, modernizzandolo e seppur senza ancora l'agibilità definitiva restituendolo alla città tra mille difficoltà logistiche e burocratiche. Tutti i candidati alla carica di primo cittadino hanno già dato la loro adesione. Ci sarà quindi lo stesso minutaggio per rispondere ad una serie di domande e lo faranno alla presenza dei rappresentanti delle varie federazioni sportive e delle società tutte invitate a partecipare a questo evento. Ricordiamo che anche la Futsal Melito, società melitese di Serie A di calcio 5 femminile, disputa le proprie partite interne al botteghelle di Reggio Calabria e quindi direttamente interessata a questa questione. E veniamo allo sport. Oggi doppia seduta di allenamento per la regina che si prepara al derby di domenica prossima col Cosenza. Al mattino la squadra ha lavorato al Sant'Agata, nel pomeriggio invece al Granillo, ma a porte chiuse fino alle ore 16, orario di inizio del test amichevole con gli allievi a Maranto. Intanto la regina comunica che in occasione delle prossime due gare interne con il Cosenza appunto domenica prossima alle ore 16 e la Lupa Roma venerdì 17 alle ore 19.30 si offre ai tifosi a Maranto la possibilità di acquistare i due biglietti al prezzo di 20 Euro per la Tribuna Est e a 15 Euro per la Curva Sud. Il pacchetto sarà già in vendita presso la biglietteria del Centro Sportivo Sant'Agata da oggi a domenica 5 ottobre agli orari di sportello della biglietteria. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.